Ciao a tutti ragazzi, sono Petro, Igor e il Tanke E questo è un nuovo video su Minecraft, finalmente Dopo un bel po' di tempo Allora, qui sono successe molte cose in questo mondo Vedete la mia casa come è diventata Se non ve la ricordate, cioè se non l'avete vista prima, guardatevi il video Comunque era molto più piccolo, è il primo video di Minecraft che ho messo Anche se era un brutto video perché l'ho fatto con un altro programma Cioè, erano brutti video, ho fatto un altro programma Comunque facevo vedere un po' come era la mia casa Allora, notiamo le differenze Qui ho dovuto alzare la piscina Prima era l'asoterra proprio Ci ho dovuto invece entrare E l'ho dovuto alzare perché sennò sgocciolava nel semitterrato Comunque il principio è uguale Quindi ho fatto solo un po' l'altezza Qua sotto ho fatto il semitterrato Con il portale Dovrò completarlo perché Perché niente, non ho ancora avuto tempo Però Cioè, sono abbastanza a buon punto Poi Vediamo cosa ho fatto Ah, non lo so se l'avete fatto vedere Che di qua avevo fatto il bagno Cioè, non mi ricordo se l'ho fatto vedere nel video sinceramente Però qui Ho il bagno Ah sì L'ho fatto vedere nel tutorial forse Cioè, comunque qua ho aggiunto solo questo Una specie di lavandine in mezzo per la me Che non ha nessuna funzione E' bellissimo Ah, poi notiamo come è solo una mod Solo per semplicizzarmi le cose Questa E niente Insaliamo il piano di sotto Qua Non ho fatto nulla Le uniche cose che sono cambiate Sono da qua in poi Cioè I due cambiamenti Sono qua E vi ricordate che non sapevo cosa fare Qua c'è una specie di zoo Con i tre animali Perché non avevi vede cosa fare E poi qua c'è il penultimo piano diciamo Che arrivi Vai avanti C'è un po' qualcuno enorme Ed ha su tutto il Tutto il paese Poi vi dirò cos'è Quello Questo qui Vabbè quella Vi spiegherò perché l'ho fatta Cos'è quello Cos'è quello E niente Devo farò vedere tutto Tanti cambiamenti No Comunque Un giocatore dei videocorti Così vi faccio vedere più avanti Mi faccio vedere solo A pezzi Comunque qua C'è la stanza degli ospiti Che è quasi più bella della mia Con le luci Notiamo Tutto Mannaggia Oh Qua Questa è bellissima Io la adoro È la stanza per fare le pozioni Anche se sinceramente non la userò mai Sono già tutte impostate Se volessi fare una pozione Qua c'è l'inceneritore Vi faccio vedere Non ce n'eriamo Uno di questi Non ce n'eriamo Vi faccio vedere Comunque È tutto carino Cioè a me la mia piace Poi E' oggettiva la cosa Qua C'è Una Funtana Soltate Ora non c'è Ora c'è È molto bella Cioè A me la mia piace Anche questa stanza Ma non è l'utilità Però È tutta estetica Doveva essere una sauna Ma Come faccio a fare una sauna In Minecraft Poi qua c'è Boh c'è una filistrata Che dà Su Dietro Della città E poi Qui Anche qui c'è una filistrata Qui Ci sono Due scale Che farò vedere Nel prossimo video Ok Ciao ragazzi Ah aspettate Nel prossimo video Farò vedere Questo Questa cosa Questa cosa E E Aspetta Torniamo sul balcone Per farci vedere Quello Faccio vedere quello là Ok Ciao a tutti